Meno di 5 minuti per far saltare in aria il bancomat dell'hotel Alo a Campomarino Lido. 4 persone incappucciate, 3 in azione allo sportello e una da aspettare in macchina. L'esplosione, avvenuta intorno alle 3.20, è stata talmente forte da essere avvertita anche in paese. Per la banda il corpo è però andato a vuoto. Il bancomat attivo durante l'estate doveva essere ricaricato tra qualche giorno. Sono ingenti i danni alla struttura, ancora non utilizzata. La carica di esplosivo ha distrutto lo sportello, porte e parte dei locali in cui era installato l'impianto. I pezzi di vetro e i calcinacci sono finiti anche contro i residents che si trova di fronte all'albergo. Indagini in corso, la banda è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini al vaglio dei carabinieri della stazione di Campomarino, coordinati dalla compagnia di Termoli. I militari hanno ascoltato diversi testimoni ed effettuato i rilievi negli spazi dell'albergo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è la prima volta che questo sportello viene preso di mira da bande della marmotta, la tecnica che viene utilizzata per far esplodere gli sportelli bancomat. Un tentativo fallito nella località di villeggiatura al confine con la Puglia, che si prepara ad accogliere turisti nella fase 3 dell'emergenza e con numeri ancora da verificare rispetto al passato, quando il Lido di Campomarino è arrivato a superare largamente anche le 70.000 presenze nel picco di agosto.